Ragazzi, vi ricordate quando abbiamo ucciso Siren Head e poi altri tre volevano distruggere la città? Sì, me lo ricordo molto bene! Sì, Stas, vogliono vendicarsi, ma forse dovremmo parlare con loro! Magari potremo trovare un accordo di pace! Sei impazzito! L'ultima volta pensavamo di averli spazzati via tutti! Pensavamo che fossero spariti, solo che stanno tornando per vendicarsi e non per fare pace! Sì, sono d'accordo con lui! I Siren Head sono estremamente pericolosi! Ragazzi, ma deve esserci una via d'uscita pacifica! Ti sbagli, non possiamo fare pace con loro! Andiamo, andiamo! Presto, 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 un terremoto! Ragazzi, guardate! Siren Head! Di nuovo qui vanno in giro per le nostre strade! Ci serve un piano, ragazzi! Mentre loro sono in città, dobbiamo armarci il prima possibile! Dobbiamo prepararci alla guerra! È la cosa più giusta da fare! Ok, forza, forza! Ho la mia super pistola! E io ho questo nerf verde, il distruttore! Beh, mi accontenterò di un megafono, così potrò negoziare con loro, perché sperano una soluzione pacifica! Sei davvero folle! Sono qui per mangiarci! Mentre parli sarai hop e addio, amico di morte! E vabbè, la speranza muore per ultima! Ok, ma stai attento, sono preoccupato per te! E io starò lontano da loro, perché sono molto pericolosi! Non siamo contro la pace, ma se vuoi la pace, preparati alla guerra! Facciamo pace! No, facciamo la guerra! Vinceremo! Ragazzi, sembra che siano dall'altra parte! Ora se ne pentiranno! Invito tutti a vivere in pace! Ragazzi, andate a destra! E io andrò a sinistra! Sta spapando, ho una paura di combattere! Anche noi siamo coraggiosi a destra, sì! Sì, sono d'accordo! Siren Head! Avete paura della vendetta? O avete dimenticato chi è il papà? Sono io il papà! Stas vi ucciderà tutti i stupide lattine! Preparatevi a diventare dei rottami metallici! La vostra distruzione è il mio hobby! Amici, lo sentite, lo sentite! Il suono proviene da laggiù! Adesso vediamo cosa succederà! Amici, ecco, arriva il primo! Ora cercherò di eliminarlo! Ehehehe! Oh, oh, opa! So che è vicino! Non c'è pietà per lui! Non appena li vedremo inizieremo subito la battaglia! No, amico, è un errore! Parlerò con loro grazie al megafono e spiegherò a loro che vogliamo soltanto la pace! Cavolo di mo', non essere così codardo! Facciamo la guerra! Non sono un codardo, sono per la pace! La mia umanità mi ha salvato più di una volta! Andrò a fare la guerra, fratello! Ti sbagli? Sirenhead, vogliamo parlare di pace! No, vogliamo combattere invece! Odisseo, non intracciarvi nel fare la pace! Cavolo, amico, non capisci nulla! Abbiamo già distrutto il padre di Sirenhead! Era il più pericoloso perché ha mangiato tante persone! E ora invece i suoi figli si stanno vendicando! Bravi amici, continuate così! Rilassati, oggi li distruggeremo una volta per tutte! Bene, vediamo! Il popolo ha bisogno di pace! Sirenhead! Rottami, ecco, ti sei stato beccato! Ho pensato di farvi visitare! Mi siete mancati molto! Cosa vuol dire ti siamo mancati? Siete qui per mangiarci! Ma noi non siamo il vostro cibo! Andate via! Questa non è la vostra città a cui vivono le persone! Ma siete stati voi a distruggere il nostro amato papà! Pensavate che non l'avremmo vendicato! Sì, ma non è stata colpa nostra! Vostro padre era cattivo! È arrivato per primo! E ha iniziato a mangiare le persone! E noi non vi mangiamo! Perché le persone mangiano altre cose! A noi piace mangiare polli e torte! Ma non voi! Vuoi mangiarmi? Guarda, non strozzarti! Esatto! Se il nostro cibo è proprio così! Non siamo capaci di mangiare fogli e maiali! Mangiamo solo degli esseri umani! Non mi importa dei vostri problemi di fame! Se non mangiate carne potete diventare vegani! E ora sparerò per salvare il mondo! Wow, 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 wow! Prima di sparare guarda dietro di te, amico! Ha, ha, ha! Cosa? Devo girarmi! Sei un idiota! Non ci casco! Girati con il largo! Non lo dico tanto per dire! Ok! Adesso mi giro! Oh, mamma! Sono fregato! Mi mangeranno! Oh, vi prego! Abbiate per tra di me! Non mangiatemi! Non fatelo! Non sono buono! Non mangiatevi! Oh, sirene! 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 Oh, sono qui vicino da qualche parte! Oh, da remoto! Alzati! Forza, forza, forza! Do così! Sono da quella parte! Andiamo, andiamo, andiamo! Oh, Odiseo! L'hai sentito anche tu! Era Sasuke che tu l'avevi da qualche parte! Andiamo, andiamo di là, dai! Forza, dai! Presto, 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 presto! Forza, forza, forza! Dove sono, fratello? Dove sono? Non lo so! Oh! Cos'è quello lì? Oh, è la pistola di Stas! Ti rendi conto di quello che è successo di Seo? Ti hanno preso Stas? Sì, dobbiamo salvarlo! Prendi la sua pistola! Il mondo deve aspettare! È cominciata la guerra! Sì, una guerra totale! Bene, cominciamo! Moriranno tutti! Basta, 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 basta! Ascoltate! Noi adesso vi chiediamo un favore importante! Iscrivetevi al canale! Stas è il loro prigioniero! La vostra iscrizione lo tiene il nostro dimorale! Sì, perché questi mostri vogliono mangiarlo! E voi con la vostra iscrizione sosterrete il nostro amico! Sì, andiamo a salvare Stas adesso! Dai, dai, Odiseo, andiamo! Forza, forza, Odiseo! Seguimi, dai! Ehi, amico, te l'ho detto! La pace con i Saren Head è impossibile! Sono davvero cattivo! Odiseo, sì, mi sbagliavo! Oh, avremmo dovuto combattere fin dall'inizio! Sì, giusto, mi dispiace per Stas! Beh, andiamo da loro, salviamolo! Sì, andiamo, Odiseo! Credo che lo stiano trattenuto da qualche parte qui! O forse lui non è lì! Dovremmo controllare, dai, andiamo! Oh, nasconditi, nasconditi, dai! Oh, Odiseo, Odiseo, l'hai visto? Tre Saren Head! Sì, allora distruggiamoli! Ma non lo sono in tre, noi siamo solo in due! Innanzitutto dobbiamo trovare Stas! Ma dove lo dobbiamo cercare, Dimon? Dobbiamo seguirli e vedere dove hanno nascosto il nostro amico! Sì, ho capito, ottima idea! Eeeh, spiegati, spiegati! Aspetta, Odiseo, sono qui! Nasconditi, nasconditi! Tutti e tre! Tre Saren Head è pericolosissimo! Dimon, abbiamo qualche piano! Di sicuro non se ne andranno via da qui! Quindi adesso noi scavalcheremo furtivamente quella recensione! Capisci cosa intendo? E se stasse lì dentro non dovremmo far altro che salvarlo! Sì, perfetto, andiamo allora! Forza, 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 forza! Presto, 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 presto! Bene, così! Dai, 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 dai! Ecco, così, 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 così! Eccoci! Andiamo, 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 andiamo! Seguimi, 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 dai! Deve essere qui da qualche parte, è qui! Andiamo, andiamo, andiamo! Forza, 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 forza! Ehi, l'hai sentito anche tu, Odiseo? Sì, qualcuno stava ammuggendo! Ma chi era? Non lo so! Oh, 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 l'ho trovato! L'ho trovato! Stas, stas! Dai, dai, stas! Adesso, dai! Eccoci! Aiutatemi, presto, slegatemi le mani! Raccontaci, dai, come sei stato catturato? Semplicemente, sono cascato in quella truffa! Quei mostri sono molto assubdoli! Cavolo, pensi che valga la pena di combatterli? Sì, è l'unico modo, ragazzi! Ma non sono sicuro che ce la faremo! Perché quei maledetti sono pronti! Mi è venuta un'idea, Stas! Scappare da qui? No, tieni la pistola! Io prenderò il megafono e colerò il più lontano possibile! Per chiamare quei tre bastardi e riuscirò a distrarli da voi! Sei impazzito? E se ti cattureranno e ti mangeranno! Io spero che voi riuscirete a scappare in tempo per poi aiutarmi! Certo che faremo in tempo e ti salveremo! Abbatteremo insieme quei Siren Head e tutti saranno di nuovo felici! Noi e anche voi, amici! Ottimo! Il megafono è acceso e sono pronto a correre! Forza, Dimon! Non farti prendermi le loro griffie! Corri! E tu ed io torniamo a casa in fredda! Andiamo, andiamo! Siren Head! Riuscite a prendermi i perdenti? Oh no! Statemi dietro! Ehi stramboidi, sono qui! Prendetemi! Oh ragazzi, è qui a Dura! Sono fottutamente bloccato! Adesso che faccio? Ragazzi, siamo al centro giochi! Io vado a giocare con le palle! Io vado sugli scivoli! Mentre io invece vado a giocare con le macchine! Sì, sì! Andiamo sui scivoli! Amici, guardate quanti scivoli diversi che ci sono! E ce n'è uno grande al pieno di sopra! Dove devo andare? Va bene, andiamo subito a quello grande! Oh! 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 Chi mi tira? Chi mi tira? Oh! 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 Chi mi ha tirato? Amici, non ho fatto niente io! Oh! 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 Vado a dirlo ragazzi! Oh! Oh! Amici, sono arrivato qui per giocare alle macchine e non so da dove cominciare! Oh! Comincerò da lì! Ah! Vai, 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 vai! Ah! Che succede? Perché non funziona? Ha sempre funzionato! Cosa c'è che non va? Comunque forza, 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 forza! Ah! Che succede? È il mio gioco preferito! Io ci gioco sempre! Adesso invece c'è qualcosa che non va! Vado a dirlo ai ragazzi! Non so cosa stia succedendo! Oh! Andiamo, 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 forza! Amici, come mi piace essere qui! Mi piace giocare qui! Come mi rilassano queste palline! Quanto mi piace questo parco! Ehi! Ehi! Chi è stato? Non c'è nessuno qui! Comunque... Cavolo! Aie! Ma... Allora... Allora, sono l'unico qui! Qui mi sta lanciando le palline! Cosa succede qui? Ok, vado da un'altra parte! Ah! 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 Che succede qui, amici? C'è qualcosa che non va! Devo trovare i ragazzi! Ragazzi, ragazzi! Che succede? Cosa è successo? Qualcuno mi ha spinto giù dallo scivolo! E qualcuno mi ha tirato delle palline, ma ero da solo! Ragazzi, quando giocavo alle macchine sono successe delle cose strane, ma ero da solo! Sì, hai ragione! Cos'è successo, ragazzi? Non lo so! Amici, credo di potervi spiegare! Qui è apparso un fantasma e dobbiamo chiamare Raffario! Sì, così può portare tutto l'equipaggiamento per distruggere i fantasmi! Sì, buona idea! Lo chiamo subito, grande! Allora? Raffario, Raffario, mi senti? C'è un fantasma nel centro giochi e devi venire con tutta l'attrezzatura per aiutarci! Sì! Salvarci, Raffario, salvaci! One hour later... Oh, Raffario! Sì! Cambiatevi, andiamo in guerra, ragazzi! Uopà, apri! Faremo a pezzi tutti i fantasmi! Sì, ragazzi! Andiamo! Andiamo! Bene, bene, bene! Dimon, dimon, mostraci le tue armi! Ecco, guardate! Quando accendo quest'arma, scansiona l'intero posto e cerca fantasmi e infestazioni! Guardate! Avete sentito? Bene, 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 bene! Sono qui, vicino, vicino, vicino! Io e Stas spariamo e disarmiamo il fantasma! È il mio sparo, amici! Guardate! Pum! E io, amici, ho un dispositivo! Ho una trappola per fantasmi! L'unica cosa che devo fare è premere questo pulsante e poi il fantasma viene intrappolato in questo dispositivo e ci rimane per sempre! Ragazzi, dobbiamo dividerci! Ehi, ragazzi, è una pessima idea! Ho paura! Ragazzi, basta così! Non abbiamo altra scelta! Andiamo! Porto, dai! Dividiamoci! Lo troverò, lo troverò, lo troverò! Amici, sono sincero con voi, ho molta paura! Non voglio andare a cacciare i fantasmi! Ecco perché, amici, voglio nascondermi in quella capanna laggiù e mi siederò lì in silenzio in modo che non mi noti! Mi nasconderò qui! Oh, ragazzi, credo di essere sicuro qui! Oh, che schifo! È disgustoso! Oh, che schifo! Che cos'è? Comunque mi sederò qui finché non sarà tutto finito! Dove sei, fantasma? Dove sei? Dove sei? Non ho paura di te! Non ho affatto paura di te! Forse sei qui o qui! Ragazzi, dov'è quel fantasma? Lo distruggerò! Fantasma, dove sei? Ti prenderò! Non scherzare con Raffario! Mai, mai! Amici, sono molto spaventato! Ma ho bisogno del vostro aiuto! Per rendermi un po' più forte, iscrivetevi! E poi inizierò a cercare tutti i fantasmi! Fantasma, dove sei? Ti troverò, sappilo! Non ho affatto paura di te! È là, da qualche parte! È là! Devo solo continuare a cercare! È proprio qui, qui vicino! Qui vicino, qui vicino! Sicuramente, qui vicino! Dove sei? Non ho affatto paura di te! Oh, no, qui non c'è niente! Andiamo all'alto scivolo! Bene, 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 bene! Ecco, scannerizziamolo, scannerizziamolo! Dove sono tutti i fantasmi? Dove sono i fantasmi? Cavolo, ragazzi! Li troverò comunque! In un modo o nell'altro dovrò trovare uno più fantasmi! Oh! Cos'è quello? Fammi vedere! Oh! L'apparato ha individuato qualcosa, amici! Oh, amici, è sangue di fantasma! Devo andarmene subito da qui! Ehm, lo sentite? Un fantasma! Oh, amici, è passato tanto tempo! E non ho poi così tanta paura! Quindi uscirò di qui e cercherò un fantasma! Ah! Ah! Che schifo, amici! Cos'è stato? Oh, credo di essere incollato! Oh, no, ragazzi! Sono in trappola! Ah! Two hours later... Dov'è quel fantasma? Dov'è? Sono sicuro che lo troverò! Lo troverò! Nessun fantasma è riuscito mai a scappare! Ah! Raffario, sei pazzo! Mi hai quasi sparato! È colpa tua, imbecille! Io, 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 io! Non è colpa mia! Vai a quel paese! Ragazzi, ragazzi, dobbiamo andarcene da qui! Questo posto è maledetto! Il fantasma è molto forte e pericoloso! E come fai a saperlo, Dimon? L'hai trovato tu? Sì, l'ho trovato! Ho trovato una palla con sopra il sangue del fantasma! E ho capito che è molto pericoloso e può distruggerci! Ok, cosa facciamo? Andiamo a casa, eh? Prima dobbiamo trovare Odisseo! Sì, 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 sì! Andiamo a toccare Odisseo, forza! Andiamo! Troviamo Odisseo e poi ce ne andiamo, forza! Ragazzi, guardate! Cos'è quello? Ragazzi, quello è il dispositivo di Odisseo! Deve aver incontrato un fantasma e gli è successo qualcosa! Oh, cavolo, ragazzi! Cosa gli è successo? Spero sia ancora vivo! Possiamo trovarlo, ragazzi! Questo è certo! Sono qui, ragazzi! Va tutto bene, ragazzi! Oh, bene, va tutto bene Odisseo! Forza, andiamo! Andiamo a casa! No, non ce ne andiamo! Questa è la nostra casa! E resteremo qui per sempre! Di cosa stai parlando, Odisseo? È tutto molto strano! Raffario, spara! Amici, adesso io aprirò la trappola per catturare il fantasma! Oh, è in trappola! Odisseo! 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 Stai bene, fratello! Stai bene! Ragazzi, siamo stati bravissimi! Abbiamo liberato il centro giochi e catturato il fantasma! È dentro per sempre! Grande Odisseo! Stai bene? Non credo di stare bene! Siamo una grande squadra! Possiamo andare in pace! Abbiamo di nuovo salvato il mondo! E abbiamo salvato Odisseo! Andiamo! Andiamo! Iscrivetevi e prendete la campanella! Ci vediamo! Ciao!